Nelle puntate precedenti, dopo aver come sempre miseramente naufragato, Bufo e il Gran Puno si ritrovarono ad Atlantide a chiedere ausilio alla principessa Aria per raggiungere il porto di Civitavecchia. Tuttavia, l'avventura non poteva che volgere al peggio, come le loro visu. Certo che c'era da aspettarselo da una che chiama a riccia spiccia le porchette che confondesse Civitavecchia con Agraba. Ma non ti lamentare, guarda che il deserto è meraviglioso, è un posto ricco di immaginario. Pensa che è figata fare le reaction ai miraggi. Per esempio, guarda quel punto lì, guarda quel punto lì. Quello è il tipico miraggio dell'immaginario comune. E guarda lì, guarda lì, quello è l'immaginario delle creature fantastiche. È un bellissimo esemplare di Tremors, tratto da Tremors 5. Mela fisico, fai provare a me, fai provare a me. Vedo, vedo, vedo. Degli sfrenati saturnani, forpi che ballano, danzatori vestiti con bulgeri, a piedi nudi, su bracciali ardenti, scantenando desideri mitici di prostitute lipiche, col senso del possesso che fu pre-alessandrino. Ah sì, ma è TikTok. Eh? Che merda.